Ieri il Consiglio federale della FIGC Molise si è riunito per tracciare le linee guida in merito ai verdetti della stagione 2019-2020. Questi però non sono ancora stati ratificati, si attende infatti il Consiglio federale della Lega Nazionale Dilettanti, previsto il 25 giugno, che deciderà in merito alla questione relativa alle retrocessioni. La riunione molisana ha stabilito Comprensero Varano, oggi FC Matese, promosso in serie D, Alife retrocesso in promozione, Aurora Ruri e Castel di Sangro promosse in eccellenza, blocco delle retrocessioni in promozione, Turris Santa Croce di Maiano e Virtus Gioiese promosse in promozione, dai tre gironi di seconda categoria le preme tre passano in prima. Il Consiglio della FIGC Molise darà conferma di queste decisioni con una nuova riunione programmata il primo luglio. In quella data tutto sarà ufficiale sia sulle promozioni sia sui nuovi organici di eccellenza e promozione per la stagione 2020-2021. Intanto a favore del sostegno economico, a favore delle società molisane, sentiamo il presidente Piero Di Cristinzi. Ma attualmente abbiamo recepito quello che è la disposizione che ha emanato la Lega Direttanti, che ha messo a disposizione delle società dall'eccellenza alla terza categoria, circa 7 milioni di euro, anche del calcio a 5, come contributo per la prossima stagione. Questo sicuramente avrà un impatto forte dal punto di vista economico anche per quanto riguarda l'iscrizione ai campionati, perché gran parte della società pagheranno come prima rata praticamente molto molto poco dal punto di vista economico. E poi alluncheremo anche le scadenze, non più una scadenza al momento di iscrizione, un pagamento di iscrizione e una seconda rata. Noi come Comitato abbiamo scelto la linea di fare in due rate, una seconda rata al 15 di dicembre e una terza rata praticamente alla fine di febbraio, proprio per mettere nelle migliori condizioni le stesse società. Aspettiamo anche, speriamo a breve, perché ho scritto al governatore Toma di attivarsi per quanto riguarda il calcio regionale, perché è patrimonio di tutti, anche della stessa regione. Mi è stato garantito dallo stesso che ci saranno degli interventi, spero quanto prima, perché mi ha anche autorizzato a divulgarlo questa possibilità e speriamo che sia un impatto lo stesso forte che può impattare sulle stesse società. Il nostro lavoro in questo periodo sarà anche quello di monitorare un poco tutte le società. Stiamo cercando di monitorare anche quei centri che avevano rappresentato la possibilità di una nuova società in alcuni comuni dove era assente e qualche cosa si sta muovendo. Speriamo nella regione, speriamo anche in qualche ulteriore intervento anche da parte eventualmente della federazione.